Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro Ospite della vita Sotto il sole Sotto il sole Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospito un gioco e cantatore A questo punto la prima domanda che ci sorge spontanea Se dovessi descrivere, come ti descriveresti oggi a chi non ti conosce? Mi definirei un amante della musica, proprio smodato Che non smette mai di cantare e di scrivere canzoni E di vivere la musica con gioia, con passione Mettendoci tutte le emozioni, anche quelle non belle In varie canzoni E mi sento anche maturo avendo anche percorso vari generi musicali nel corso della mia vita, della mia carriera Quindi mi sento, completo no Perché ovviamente nella musica come nella vita non bisogna mai sentirsi arrivati Però mi sento un buon punto della mia carriera e della mia vita E a questo punto intanto parliamo dell'ultimo lavoro Quando nasce, come si sviluppa Per poi ottenere questo risultato che tutti ascoltano Ma allora, la canzone è nata nel 2020 durante il lockdown Ed è uscita poi nel 2020 E quest'anno, quest'inverno Mi balenava l'idea di fare un bel remixone Anni 90, Cassin 4 Anche ascoltando quello che hanno fatto i The Colors E non solo in questi ultimi anni E ho visto che è ritornata un po' la musica degli anni 90 Che a me piace assai Con cui sono cresciuto ovviamente Musicalmente e non E abbiamo deciso assieme a Francesco Contadini Che è un mio amico producer Che si occupa prettamente di dance E abbiamo provato a fare questo remix di Sotto il Sole Dopo un'ora di lavoro abbiamo capito che stava funzionando E abbiamo continuato E in pochi giorni abbiamo finito il lavoro E mi rende orgoglioso e soddisfatto del lavoro svolto E nella realizzazione dei tuoi testi Prisci a essere un po' più longevo come il classico italiano Oppure più descrittivo Oppure come nell'inglese un po' più sintetico Un po' più ermetico Allora io vengo proprio dalla scrittura in inglese Ho cominciato in inglese a 14 anni E poi ho proseguito per molti anni Con vari progetti in inglese E scrivo ancora in inglese Sia per me che per altri artisti Però diciamo sì che nel Noto anch'io che nell'italiano Tendo a imitare un po' come sintesi l'inglese Quindi uso poche parole Diciamo non sono Non mi sento un De Gregori Un Guccini Un Cremonini Tipo una delle canzoni sue Che mi piacciono di più E' ad esempio Marmellata 25 Che è una canzone molto descrittiva Io ad esempio quel dono lì non ce l'ho Ho un po' il dono della sintesi Dato probabilmente dalla mia esperienza precedente Scrivendo in inglese Quello me ne sono sempre accorto Ma ho provato a essere un po' più descrittivo Però diciamo Bisogna fare le cose che vengono di pancia Quindi mi sento più di dire Che continuo a scrivere in questa maniera E invece come nascono i tuoi brani Da un riff, da un beat Oppure da una parola, da una frase Oppure possiamo dirti che Accidentalmente si incontrano E prendono vita insieme? Nella mia vita ormai ho sperimentato Tutte le fasi della scrittura E non mi pongo più limiti Perché all'inizio scrivevo tutto Partiva da degli accordi Con la chitarra acustica E poi uscivano le melodie A volte direttamente già le parole Però nel corso degli anni Ho proprio abbracciato anche altri sistemi di scrittura Anche involontariamente Ad esempio spesso Come mi venivano da ragazzo Anche da bambino Mi venivano delle melodie E poi le melodie vai a Riconosci qual è magari più forte o meno E poi ci comincia a lavorare Ci costruisci un attimino Tutto CQC Vicino anche L'aspetto armonico Della canzone eccetera E più anche Ho anche sperimentato Delle canzoni scritte Proprio da dei beat Quindi anche Dipende anche dal tipo di canzone Che mi viene richiesta Perché come dicevo prima Scrivendo anche per altri artisti A volte ovviamente Devo già cominciare a avere Delle reference Come si dice Per scrivere un brano Adatto a quel tipo di artista Per quanto concerne la scrittura dei miei brani Frettamente nasce tutto O da una melodia Che mi succede anche O mentre passeggio O sono al centro commerciale O vado a correre O sono in spiaggia E da lì poi nasce tutto O proprio prendo su Come è successo con Sotto il sole Ho preso la chitarra Ho cominciato a suonare questi quattro accordi E mi è uscita la canzone In circa mezz'ora Neanche col testo È ovviamente Quasi completo Quindi È un po' variegata La situazione Ma comunque Sono sempre Delle cose Speciali Secondo me Perché quando si scrive una canzone Per me è un momento Speciale Perché comunque Si racconta O si dice qualcosa Di se stessi Che differenza passa Tu hai detto Appettivamente Che scrivi per altri artisti Quale sensazione hai visto Di quando hai presentato Questi brani ai tuoi colleghi Che hanno poi cantato i tuoi brani Nell'ascolto della prima Prova E poi La loro reazione nel viso Quando Poi messi in pratica Quel brano La tua sensazione La mia sensazione Visiva È sempre L'aspetto Che non guardo mai Ma Quello che mi Che mi dà A livello emotivo Perché quando Ascolto anche per la prima volta La canzone Poi è registrata Da Da un altro cantante Che a volte magari si occupa Anche lui Della produzione Quindi io Lascio il brano Ancora in versione demo Quando Quando lo do E Se mi causa emozione Vuol dire che Mi sento di aver fatto Un buon lavoro Per me Per la musica E per la persona Ovviamente Che è l'artista Che va A cantarlo Ci sono stati anche Dei casi Dove Ovviamente Mi ha emozionato Di meno Però L'importante Che piaccia alle persone Che piaccia L'artista Che la canti Poi ovvio Come tutte Sono canzoni Che vado Veramente orgoglioso Di averle scritte A volte non mi rendo conto Anche di Di averle scritte Io Mi sembra neanche Di averle scritte Io Sentendole cantare Da un altro E Però mi rende Orgoglioso E E altre Ovviamente Un po' meno Ma questo Questo ci sta Direi Anche perché Non sempre Si riesce a fare Un lavoro Non tutte le ciambelle Rescono col buco Dicevano Invece L'emozione Chiaramente Tu hai su natural vivo Il palco L'hai vissuto Lo vivi Perché non Qual è la tua sensazione Salendo sul palco Poi in realtà In un palco Dove il pubblico In realtà A volte non lo senti Perché Sei concentrato Sui brani Sei Tutto in un mondo Tuo Che ti permette Poi di lavorare Però Quell'energia Che comunque Loro ti trasmettono Che Quel silenzio Prima che poi Poi nel tempo Aumenta Migliora Cresce E anche Cresce pubblico Qual è la tua sensazione Emotiva Se c'è Oppure Che un pochettino È cambiata nel tempo C'è C'è Beh è cambiata nel tempo Perché ovviamente Molti anni fa La vivevo Con un'ansia Da Da prestazione Abnorme Quindi Al limite Dell'attacco Di panico Mentre Negli ultimi anni La vivo molto serenamente Ovviamente Cerco di dare Tutto Soprattutto Nel All'inizio Perché comunque Tante volte Le persone che ti ascoltano Non ti conoscono O non ti hanno mai Ascoltato Magari dal vivo E All'inizio Devi dargli un biglietto Da visita Importante Soprattutto a livello umano Di passione Di trasmettere qualcosa E Poi Dopo due tre pezzi Si vede che Come vanno le cose E poi È tutto in discesa Alla fine Poi diventa Tutto più rilassato E E lì Non sono più Io che do Al pubblico E sinceramente Ricevi Più tu dal pubblico Che non Che non altro Ed è Comunque sono Dei momenti Molto belli Molto molto belli Che poi Passano in fretta Perché un'ora Un'ora e mezza Due ore A volte Passano veramente In un attimo E Però il giorno dopo La sera Quando vai Ti distendi A letto E sei ancora Eccitato Per Quelle emozioni Che hai vissuto E ci ripensi Insomma Sono dei Amar core Della propria vita Che rimangono Veramente impressi Poi scendendo al parco Inconti le persone Che ti Che ti hanno ascoltato Oltre a farti complimenti Ti è capitato Che ti hanno detto Ti hanno citato Qualche pezzo Del brano Comunque Qualche parola Oppure Le hai viste Comunque Con quel viso Rilassato Sereno Oppure Contento Oppure triste Ma Devuta al fatto Alle emozioni Che hanno provato In quel caso Se sì Quale sensazione Hai provato Quale No Ebbè Il parere A caldo Delle persone È sempre un po Spiazzante Perché a volte Cioè Rimane forse più Quei commenti Spiazzanti Cioè Nel senso Magari È piaciuta A una persona Una canzone Che Su cui Io magari Personalmente Non ci Non ci investo Alla fine Molto Magari a livello emotivo E altre Magari dove Tu dai Il mille Per cento Ci metti Di più Dell'anima E magari Viene capita Meno Però Quello è il bello Che ognuno deve Percepisce Da una musica Da una parola Da una canzone Da una melodia Un qualcosa Di diverso Che riempie Magari Una sua sensazione Un vuoto Un'emozione Vissuta Magari Le ricorda E poi a volte È successo Che anche questa È una cosa Molto bella Che magari Una certa frase Che per me Io l'ho scritta Per un altro motivo Per un'altra persona Ricordasse qualcos'altro E questo A quella persona Che poi sia Non sia l'emozione Per cui tu l'abbia scritta Ma quello Quello Non è un problema Ante E invece Parlando un po' Di musica Visto Che stiamo parlando Di un argomento Che pochi Conoscono La musica Secondo te I giovani Che intraprendono Vogliono fare Le cover È facile Difficile Lasciare famosa La coperta Di Linus Che sono le cover E produrre Un proprio brano Incidere Scrivere Un proprio brano Secondo te È così tanto difficile Lasciare questa famosa Coperta Di Linus Che sono poi Le cover Eh Dio Io devo dire la verità Ho iniziato più Ho fatto l'inverso Ho iniziato prima Dei prezzi miei Che poi mi sono Avventurato Nelle cover Diciamo che È un percorso personale In base Al modo di sentire La musica Ma al modo di essere Anche E anche ovviamente All'esperienza Di vita Che uno Che uno ha Eh O che ha avuto Il fatto di Di cominciare Delle cover Sicuramente È sempre una cosa Positiva Perché Sono comunque Artisti già Arrivati E già di successo E quindi Sicuramente Se un prodotto È di successo Qualcosa Ne trai di buono Dell'aspetto lì In fatto di Conoscenza Di sapienza E anche Di esperienza Ovviamente Poi Il fattore Di scrivere Secondo me È come Come tutte le arti È una cosa Che magari È un dono Che magari È più spiccato In certe persone E alcune In meno Però Sicuramente Da Molto di più Rispetto A una cover Quello Quello sicuramente Perché Come si diceva Prima Cioè le canzoni Parlano di te Le tue emozioni Ti ho vissuto Di qualcosa Che si percepisce Del mondo Delle altre persone Quindi Quindi sì È meglio Io sono della fazione Che è meglio Scrivere canzoni Che non Far cover Però Ognuno Ognuno Ha le sue Dai E a questo punto Progetti futuri O imminenti Quali sono? Beh Dopo L'estate Ovviamente Inizieremo Da settembre Inizierò a lavorare Ovviamente Su altri brani Che ho già Comunque Iniziato A produrre Poi Sceglieremo Un attimino Quale Far uscire Magari già Per inizio 2025 Con Mirando bene Comunque Le tempistiche E anche La La tipologia Di brano Quindi I canzoni Ce ne sono A Varanga Per fortuna È solo Da ottimizzare Da capire I momenti giusti E quale brano Far uscire A questo punto Ci vengono Soltanto Due cose Fondamentali Gli indirizzi Dovete Raggiungere E i saluti Finali Beh Allora Mi trovate Su tutti i social media Quindi Su Instagram Facebook TikTok YouTube A Ivan Comar E lì potete vedere Anche i video Del di sotto il sole Remix E anche di altri Brani Su Spotify Ovviamente Dove potete ascoltare Anche i brani Che ho scritto Per altri artisti Anche Di esteri Ovviamente E cosa dire Buona estate a tutti È stato un piacere Parlare Con voi Buona estate E ci vediamo presto Ore di campione Piero di energie Il sporticeno game Ci porta In una nuova dimensione Con passione E coraggio Siamo pronti a brillare E Studio 7 E TV Ci guida Ad ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio Con onore Siamo pronti A dare il nostro meglio Con Pietro Come guida Il nostro spirito Non se rende mai Sporticeno Game E Studio 7 E TV Intervista di Pietro Un cuore Ed un campione Ogni atleta Una storia Ogni momento E un emozione Con coraggio E con determinazione Studio 7 TV E Sport Piceno Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della vita Soccorso Sole Sotto il sole L'amore